Per chi ha una conoscenza a 360 gradi del settore come Carlo Cacciamani, la divulgazione è insita in quella che è la ricerca scientifica e quella che è l'applicazione tecnica della ricerca scientifica. Non è sempre così. Oggi i cambiamenti climatici ci impongono di stringere i tempi e far sì che anche gli enti accorcino le distanze su quelle che sono competenze e delegazione. I cambiamenti climatici aumentano le condizioni di rischio perché cresce la pericolosità a causa dell'iscaldamento globale che ha delle ripercussioni anche dal punto di vista degli impatti e quindi del rischio idraulico. Sicuramente quindi la società deve organizzarsi di rimodulare le azioni di riduzione del rischio anche nel tempo reale e questo si può avere operando su tanti settori. Sicuramente sull'educazione dei cittadini che devono avere una maggiore conoscenza di queste problematiche. Sicuramente da un punto di vista tecnologico dobbiamo essere in grado di informarli in tempo rapido, in maniera tempestiva. Dobbiamo trasferire delle informazioni che siano il più possibili e comprensibili tenendo però conto che ad esempio nei sistemi di preannuncio, cioè di previsione se vogliamo, c'è sempre un margine di incertezza che non può essere eliminato. La gestione di questa incertezza quindi è una cosa complicata e questo è un pezzo di una sfida. Cioè dover comunicare una cosa che potrebbe capitare ma anche no. L'altro pezzo della sfida è una volta che questa informazione è arrivata a chi deve decidere quali sono le azioni di riduzione del rischio, ma anche al cittadino che deve decidere delle azioni della sua vita quotidiana e come fa a decidere quali sono gli strumenti che deve avere a disposizione per poter fare una scelta, fare delle decisioni ragionate. E quindi c'è tutto un discorso di analisi costo e beneficio. Quindi devo fare un'azione che comunque mi crea un disagio perché magari ho pianificato di fare una gita e non la faccio. Dovevo andare a fare un incontro importante per il lavoro e non riesco a andarci. A fronte del fatto però che il rischio che potrei correre per fare quella gita o per fare quel lavoro è superiore, enormemente superiore, al costo dell'azione che in questo caso sarebbe non ci vado. Quindi queste sono tutte cose che chi deve decidere lo mette spesso in grande imbarazzo. E quindi questa è una sfida. Cioè quali sono le tecnologie, quali sono i ragionamenti, quali sono le competenze che devono possedere sostanzialmente un pochino tutti ai nostri livelli. Cioè tra noi che dobbiamo decidere se prendere l'ombrello o non prendere l'ombrello e chi deve decidere se fare una partita di calcio o non farla fare c'è una bella differenza dal punto di vista del costo dell'azione. Ma concettualmente stiamo parlando della cosa stimida. Oggi gli strumenti sono anche estremamente diretti, se vogliamo. Esistono i social network, esistono strumenti diretti. Però effettivamente in un mosaico così complesso e articolato, anche colorito, come quello del progetto Rischiliens, una parte importante forse anche da aggiungere è quella della stampa. La stampa, l'informazione riguardo gli eventi calamitosi è sempre abbondante quindi non si può dire che c'è carenza di informazione. Però forse a volte è un po' troppo e andrebbe rimodulata. Lei mi insegna che l'informazione deve essere giusta, né troppo né poca. Sicuramente un'altra cosa che si nota è che viene data sempre molta enfasi all'effetto, quando c'è un effetto dannoso, e viene data poca enfasi al fatto che per esempio un evento dannoso non si è verificato. O al come prepararsi. O al come prepararsi, perché è chiaro che non fa notizia il fatto che io non ho avuto dei morti. Non fa tanto notizia come la notizia contraria abbiamo avuto dei morti a causa di questo evento. Probabilmente anche il mondo della stampa, il giornalismo, dovrà in qualche maniera riuscire a trovare dei metodi per rendere notiziabili anche quello che oggi non è considerato notiziabile. Perché non fa audience, perché non ti fa vendere delle copie, perché non ti crea proventi pubblicitari se sei dentro una televisione, cose di questo genere. Però far crescere una comunità significa anche far credere alle persone che dei sistemi di preannuncio, per esempio, se opportunamente realizzati e trasferiti permettono di salvare le vite umane.